Mentre il centrodestra avanza da mesi proposte costruttive per risolvere i problemi reali del paese, mentre il centrodestra si sta occupando, per esempio, degli stipendi degli infermieri che sono stremati da questi mesi di pandemia, mentre il centrodestra si sta occupando, ad esempio, dei diritti dei disabili per i quali la chiusura delle scuole è stato un vero e proprio dramma, mentre interi settori produttivi del nostro paese sono in ginocchio, penso alle partite IVA, penso ai nostri commercianti, penso al mondo del trasporto, dell'autotrasporto, della montagna. Che cosa fa il governo? Il governo si occupa invece di rimpasto e delle solite poltrone. Il governo si occupa dell'incontro che ci sarà tra Renzi e Conte. Crediamo non sia un bel esempio di democrazia, soprattutto crediamo che non è questo quello che meritano gli italiani, quello che si aspettano gli italiani e l'intero paese. Grazie. 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 Grazie.